Obiettivo Toscana in questa puntata ospita Pierandrea Vanni, sindaco di Sorano in provincia di Grosseto e coordinatore della consulta dei piccoli comuni toscani. Tanti gli argomenti sul tappeto, soprattutto alla luce della recente Assemblea Nazionale Anci, che si è svolta a Firenze e ha visto sfilare sul palco molti esponenti del Governo nazionale. E allora partiamo proprio da qui. Che cosa chiedono i piccoli comuni alla Regione e al Governo? La richiesta principale che rivolgiamo al Governo, che è stata rinnovata proprio nel corso dell'Assemblea di Firenze, è l'eliminazione del patto di stabilità per i comuni da 1.500 abitanti. È stata definita una follia questa scelta che è entrata in vigore dal 1 gennaio 2013, perché se il patto di stabilità in sé sono contraddittori e spesso incongruenti, per cui creano disfunzioni e problemi seri ai comuni meglio grandi, lo sono ancora di più e sono incomprensibili per i piccoli comuni. Purtroppo per ora su questo terreno non siamo ancora riusciti a ottenere risultati concreti, se non insieme a tutti i comuni italiani il leggero allentamento del patto di stabilità che è previsto nella legge di stabilità per il 2013. Quindi il patto di stabilità rischia davvero di strozzare i comuni e soprattutto quelli più piccoli? Il patto di stabilità è un meccanismo infernale, io credo che a chi lo ha inventato e soprattutto lo sta applicando, le norme di applicazione andrebbe dato un riconoscimento straordinario perché ci vuole davvero per mettere insieme un meccanismo di questo tipo. Fa sì che pur avendo risorse, non si possono spendere per gli investimenti, ma per esempio un'altra perla, gli avanzi di amministrazione che tutti i comuni, in particolare quelli piccoli, sono stati un pochino il salvagente, nel senso che alla fine dell'anno si facevano un po' i conti e nell'anno seguente si sapeva che si poteva disporre di un po' di risorse con l'avanza di amministrazione. Adesso col patto di stabilità, l'avanza di amministrazione non si può più praticamente utilizzare, quindi si è trovato il sistema per impedire ai comuni di fare una serie di cose utili per i cittadini. C'è poi il capitolo delle tasse. Il 2014 vedrai il debutto della trise che sostituirà IMUS, IMU e TARES e che a loro volta avevano sostituito l'ICI. Al di là delle sigle, i comuni avranno più risorse e il cittadino pagherà di più o di meno? Io non vorrei fare del facile pessimismo, ma sulla scorta dell'esperienza del passato, oggi ad oggi, mi verrebbe di dire che i comuni avranno meno risorse e i cittadini pagheranno di più. È purtroppo il frutto di meccanismi che non si riesce o non si vuole modificare, anche se cambiano gli schieramenti di governo, anche se cambiano i ministri. Ormai i comuni e soprattutto i sindaci dei piccoli comuni sono stati trasformati in gabellieri per conto dello Stato, che è una delle cose più assurde e ingiuste. Ma al di là di questo aspetto, non è un problema personale, è che non ci sono garanzie a nessun livello. Vorrei che si sapesse che a oggi il Ministero degli Interni, la ragioneria centrale dello Stato e il Ministero degli Interni non hanno ancora comunicato ai comuni i trasferimenti per il 2013 e vorrei che si ricordasse che quest'anno i comuni possono approvare i bilanci di previsione per il 2013 entro il 30 novembre. Qualunque azienda privata avrebbe già chiuso, perché evidentemente siamo alla fine dell'anno e non ci sono ancora certezze sulle risorse e sull'approvazione del bilancio di previsione. In questo quadro purtroppo non si può che essere pessimisti e quindi cambieranno le sigle. Anche lì ci potrebbe dare un riconoscimento straordinario a chi partorisce IMU, TARES, TARSU, TRISE o cose del genere e i risultati purtroppo rischiano di essere peggiori dell'anno precedente. Veniamo ora all'organizzazione del territorio. Anche qui negli anni abbiamo visto tante sigle alternarsi. Associazioni intercomunali, comunità montane, unione di comuni. Si è parlato poi dell'abolizione delle province. Ora vanno per la maggiore le fusioni dei comuni. Questa strada è sufficiente per ridurre le spese e migliorare i servizi? Non è sufficiente e soprattutto ho l'impressione che la regione toscana stia premendo troppo sull'acceleratore delle fusioni, dimenticandosi che rischiano di essere una scorciatoia ma che porta poco lontana. Mi spiego. Premetto che le fusioni sono una cosa, evidentemente, se nascono dal basso e se sono confermate da un referendum fra i cittadini ci mancherebbe altro. È un'opportunità e quindi chi lo ritiene è giusto che ne usufruisca. Ma impostare tutto sul fatto che per qualche anno ci sono delle notevoli risorse aggiuntive, ed è vero, e c'è l'esenzione dal patto di stabilità per tre anni, è ignorare che tutta una serie di problemi che i comuni hanno oggi, per esempio per le politiche del personale, tanto perché non resteranno intatti anche per i comuni fusi. Cioè è una soluzione, probabilmente è una discreta soluzione dal punto di vista economico-finanziario a breve, ma non risolve i problemi complessivi strutturali con cui i comuni si trovano a vivere. Io credo personalmente, ma non solo io, che l'alternativa alle fusioni ci sia, sia le unioni dei comuni che hanno il pregio, a mio avviso, di mettere insieme i servizi, di poter realizzare, anche se nel tempo non immediatamente anche delle sinergie utili e anche dei risparmi, ma al tempo stesso salvaguardano la presenza sul territorio di municipi moderni, rinnovati, non nel senso deteriore della parola, ma del quale i cittadini hanno ancora bisogno. Forse allora al di là delle unioni dei comuni, che forse saranno la strada migliore secondo lei, servirebbe una riforma organica nelle autonomie locali? Questa è la sacrosanta verità, invece si procede ancora una volta a pezzetti di riforma o pseudo tali. Io non voglio difendere le province, perché avrebbero avuto bisogno probabilmente in anni lontani di riforme serie, evitando anche sovrapposizioni e anche dualismi inutili. Ma l'idea che ora, entro come ho letto alcune dichiarazioni del Ministro del Rio, che oltretutto ha una lunga esperienza di sindaco e di amministratore locale, si svuotano in tutte le competenze delle province, si passano di un colpo tutte le competenze delle province ai comuni, mi sembra una fuga in avanti, perché mi domando se ci siamo chiesti se i comuni sono in grado di assumere immediatamente le funzioni che non sono poche esercitate alle province. Si va avanti con l'incapacità e nella debolezza della politica che non riesce a fare purtroppo riforme complessive, si va avanti con la riforma del giorno per giorno, con il risultato che purtroppo la riforma del giorno per giorno spesso significa la confusione del giorno per giorno. A proposito dei servizi, vediamo poi ai servizi per i cittadini, nei piccoli comuni soprattutto. Come piccoli comuni avete fatto una battaglia forte per evitare che la regione chiudesse gli ospedali più piccoli, quelli più periferici. A che punto siamo? Mi sembra una situazione ancora molto contraddittoria. Vorrei precisare un aspetto, ringrazio per questa domanda perché è importante. Qui non si tratta di difendere il piccolo ospedale ad ogni costo e sapendo oltretutto che oggi la medicina è soprattutto specializzazione e ultra specializzazione. Qui si tratta di mantenere sul territorio e soprattutto su certi tipi di territori un presidio di servizi minimali che garantiscano ai cittadini che soprattutto vivono nelle zone disagiate, più lontane, di non essere cittadini di serie C come oggi succede spesso. Quindi nessuno pensa che il piccolo ospedale debba fornire, deve essere in miniatura un grande ospedale. Deve essere un ospedale che dà delle risposte immediate, qualificate e poi evidentemente indirizza il paziente verso ospedali più attrezzati, più specializzati, a secondo delle necessità. Questo è il dibattito che i sindaci portano avanti, trovando a volte risposte positive, a volte negative, poi ci sono risposte positive e poi ci sono i comportamenti incoerenti da parte dell'ASDA sul territorio, perché questo siamo un grande paese, ora parlo della Toscana, dove si fanno decine di convenzioni, di accordi, di patti, alzi la mano a chi non ha firmato un patto da qualche parte e poi dopo il problema è vedere che tipo di attuazione trovano. Quindi qualche segnale c'è stato anche da parte della regione, a seguito della pressione forte dei sindaci, dei piccoli e non solo dei piccoli comuni, del Lanci, dell'Uncem, però poi quando ci si va a confrontare sul territorio con le scelte delle ASDA, è di evidentemente vengono fuori limiti e contraddizioni e equivoci inaccettabili. Sempre a proposito di servizi basilari, stanno nascendo i punti ecco fatto, che sostituiscono un po' le funzioni dell'ufficio postale, questo è un esperimento che funziona? Io ho firmato per conto del Lanci il protocollo d'intesa, quindi anche io ho sulla coscienza diverse firme di patti e accordi, il protocollo d'intesa con l'Uncem e con la regione toscana che ha dato vita a una nuova stagione degli portelli ecco fatto. Ho detto una cosa che ribadisco, ecco fatto rappresentano comunque almeno un'inversione di tendenza, cioè dopo anni di chiusure di servizi sui territori, di penalizzazioni pesantissime da parte soprattutto degli enti periferici dello Stato, ma non solo, ecco fatto un'inversione di tendenza, cioè si cerca di creare attorno a queste strutture, a questi sportelli, una serie di servizi per i cittadini. È un cammino lungo, ci sono difficoltà di ogni tipo, compreso il fatto che le zone disagiate dalla Toscana spesso hanno una copertura DSL ridicola e quindi poi, e qui ci parliamo di sportelli che devono vivere evidentemente soprattutto sfruttando le tecnologie e quindi è un problema serio, ma comunque è un'inversione di tendenza. Fino ad oggi si è solo e soltanto chiuso, da oggi con ecco fatto si comincia a provare a ricostruire qualcosa e ove possibile addirittura dare qualcosa di nuovo ai cittadini. Ringraziamo per andare avanti di essere stato con noi, Obiettivo Toscana, vi do appuntamento alla prossima puntata.